Giove le carrozze Le portavano a vivo No, salivano direttamente Mamma mia Comunque questo cassetto Ce l'abbiamo visti tanto Questo è bello No, è organizzato bene Non soltanto perché All'altro piano, grazie Vediamo un po' No, ok E io ho capito E io ho capito E io ho capito E io ho capito Sì C'è il terrazzo Sì, sì, sì Come vedete questo? Sì Che era questo? Che era questo? Il terrazzo Di questo pavimento Cioè come si fa? È per conservarlo E la mettersere cotto E lo scempio che conservavano Mi ha affrontato Forse lo volevano sfruttare Forse per le me Ma mettersere cotto, no? Che cosa? Il castello è tutto Ah beh, come ho con moltissimi Che vedete qui sotto Poi Queste cose qui Un giorno prima erano tutte albere Per vedere i nemici Da lontano Vabbè, questi erano tutti I castellari erano protezioni Sì Andiamo a vedere i pozzi No, i pozzi con l'acqua Siccome te ci facevano pure le torture Pure là No, no No, no Le cose delle torture Le hanno presi dopo No, ma poi ti spiego Cosa? Ecco il problema Qui siamo nel regno di Io sono un apolitano borbolico Quindi non Questo Secondo il mio punto di vista Secondo il punto di vista mio Come tanti Quello ha fatto solo danni E mettersi vicino Questa è arrivata al giardinaggio Di lunghezza C'è l'acqua Le profondità E' bellissimo E questo c'è un altro più sopra Più piccolino Guarda questa è ancora più bella Questa è la più alta In parte del castello E' molto fattiva Noi guarda Ci andiamo in giro Questa feritezza E' il terzo modo di un lavatoio Come vedete Questa qua? Sì Dove lavavano Qua Prima della Devi sapere che prima Dell'Unità d'Italia Toraga avevo Ospitava re E' una cosa importante Poi il rato caribaldi La donna d'Italia E' 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 E'